vi dico buongiorno a tutti buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quarto live streaming sono passati un po' di mesi dall'ultima volta che ci siamo visti nell'ultima occasione abbiamo parlato delle varie differenze che ci sono tra le nostre calzature antinfortunistiche, le certificazioni e spiegato un po' tecnicamente di che cosa si tratta quando andiamo a parlare di calzature da lavoro il nostro ospite di oggi è ancora Marco Cascella ma oggi Marco ci parlerà solamente di una delle novità del catalogo Modif cioè della nostra scarpa EcoFresh insieme a Marco c'è Sara in regia che saluto ciao a tutti e che ci darà una mano, leggerà le domande durante il live in modo tale da integrare un po' quelle che sono le richieste anche che voi che animate il nostro live streaming ci farete durante questo fantastico percorso di oggi mi vedete in versione 80s, anni 80 ed è un effetto speciale a cui abbiamo mirato giusto per essere un pochino più vintage oggi do il benvenuto a Marco ciao Marco, una domanda subito per te perché sappiamo benissimo che in questo momento questo prodotto per noi è veramente una grossissima novità che cosa rende la EcoFresh diversa dalle altre ciao Filippo è veramente un piacere essere qui con voi e presentarvi questa novità della Dirt Modif allora sicuramente questa scarpa non è una semplice scarpa da lavoro ma è molto di più soprattutto una scarpa da lavoro riciclata ha tante tante componenti riciclate partiamo dalla tomaia che la fettuccia, il laccio, il sottopiede e altre componenti sono al 100% riciclate che significa che abbiamo un prodotto davvero top di gamma da questo punto di vista molto incentrato sull'ecosostenibilità e sul riciclaggio e questa è una componente molto importante che la distingue da tutti gli altri dispositivi di protezione individuale quindi dicevi 70% circa di percentuale giusto? penso che sia una caratteristica molto importante soprattutto per quello che è un po' il messaggio che passa da questa scarpa anche se molte volte sembrano quasi una banalità l'unica cosa su cui invece vorrei focalizzarmi è cercare di capire in termini proprio di impatto a livello di ecosostenibilità cosa ci puoi dire in più nel senso il percepito è veramente così presta veramente così tanta attenzione in questo momento a questo mondo della ecosostenibilità? assolutamente sì Filippo considera che oggigiorno con tutti questi sconvolgimenti climatici è diventato molto molto importante avere dei prodotti che si orientino in questa direzione noi come Burt Modif abbiamo deciso di cominciare con la Ecofresh ma orientarci sempre di più alla creazione di una linea di prodotti che salvaguardi l'ambiente e quindi dare nuova vita a tutta una serie di componenti che prima venivano disperse nell'ambiente o comunque andavano perdute oggi hanno vita nuova e Ecofresh fa proprio questo ovvero prende dei materiali che sarebbero stati dismessi e da loro un nuovo ciclo di vita questo è molto importante però Filippo lascia che ti dica anche qualcos'altro Ecofresh non è soltanto una scarpa è molto di più un'idea è un progetto e soprattutto sposa tantissimo il design non si tratta di un prodotto che semplicemente alloggia materiali riciclanti ma è una scarpa dal design davvero innovativo, carina comoda da indossare e con una serie di caratteristiche davvero molto molto vantaggiosi per chi avrà il piacere di utilizzarla Allora, lato mio l'occhio vuole la sua parte onestamente la percezione che abbiamo tutti e che in realtà hanno avuto anche molti dei nostri clienti che la scarpa sia bella e non solo sia anche molto confortevole si parla molto spesso di questa caratteristica dell'ammortizzazione la Ecofresh risponde a questa esigenza Marco? Assolutamente sì Filippo considera che la scarpa ha al suo interno un sottopiede che è quello riciclato del quale ti parlavo che non soltanto è costruito con materiali riciclati ma ha nella parte posteriore questa sorta di ventosa che spinge l'aria al suo interno e la muove lungo tutta la superficie plantaria ad aiutare questa cosa qui non so se è riuscito a vederlo c'è una fodera al canali che permette di creare questo muoto con il film all'interno della scarpa quindi rinfresca quindi non soltanto abbiamo ricordato dalla ammortizzazione quindi dall'assistenza alla passeggiata cosa molto molto importante per un utilizzatore che mediamente passa almeno dieci ore con scarpe da lavoro addosso ma da anche conferisce questa fantastica caratteristica del dare loro anche un rinfresco quindi insomma diciamo che già abbiamo dato un bel po' di informazioni e secondo me ci sono anche delle note positive diverse più accattivanti rispetto a quello che è lo standard comune di una scarpa da lavoro noi abbiamo diversi modelli però effettivamente solo ad impatto e solo spiegando anche quello che è il processo legato all'ecosostenibilità al materiale riciclato stiamo già parlando di un prodotto che veramente ha una visibilità diversa rispetto a quello che si trova comunemente sul mercato parlami un attimo invece del puntale della scarpa perché sappiamo e noi lo abbiamo anche verificato con altri modelli della nostra gamma vedi la stretch X che il puntale è un tema legato alla calzatura da lavoro sì corretto considera che il puntale è un po' la parte che contraddistingue la scarpa da lavoro quindi è molto importante come componente non soltanto a livello di protezione ma a volte può causare anche problemi in termini di comfort noi abbiamo deciso di andare oltre inserendo un puntale più ampio rispetto a quelli comuni e più sicuro perché questo puntale qui unico nel suo genere è stato rialzato di circa 4 mm sull'arcata superiore e questo fa sì che in caso di un potenziale infortunio l'utilizzatore finale che si ritrova sotto un infortunio ad esempio ad impatto oppure a compressione avendo questi 4 mm extra di vantaggio nel caso in cui un peso finisse sulla superficie del puntale l'arco del puntale non cadrebbe rovinosamente sulle sue dita facendoli comunque male non invalidandolo ma facendoli del male ma darebbe la possibilità all'operatore di avere uno spazio di luce che lo salverebbe da questo impatto e inoltre gli darebbe la possibilità di poter sfilare la scarpa in caso di una compressione quindi se l'operatore rimane incastrato ha la possibilità di sfilare il piede di allontanarsi dal luogo di infortunio quindi abbiamo dato maggiore sicurezza a coloro che indossano la Ecofresh quindi non soltanto riciclato non soltanto comfort design da leggerezza ma anche maggiore sicurezza per chi indossa questa scarpa straordinaria questo è il bello della diretta abbiamo Filippo che parla con il microfono spento scusatemi scusatemi dicevo la cosa che sicuramente torna è proprio questo questo design accattivante che in realtà le conferisce sicuramente un taglio più sportivo quindi siamo molto più legati allo sportswear che al workwear così d'impatto abbiamo parlato del modello del modello base che è quello che anche tu hai fatto vedere che comunque in realtà quello che è già a catalogo quello che è già disponibile in nostra gamma è S1P è prevista eventualmente o è previsto un ampliamento della gamma corretto e dunque faccio una piccola premessa Filippo al momento abbiamo come colorazione disponibile due scarpe in categoria di sicurezza S1P la prima nera con sole fettuccia blu ci tengo però a precisare Filippo che non abbiamo fatto questa scelta in ragione di preferenze calcistiche non stanno assolutamente così le cose bene mi fa molto piacere questa cosa perfetto bene bene so che tu non sei un grande appassionato di calcio infatti la scelta del blu ringrazio su questo Sara e reparto marketing che ci ha suggerito questa scelta deriva dalla voglia di riprendere un po' l'oceano che è stato che è una di quelle parti di questo pianeta maggiormente colpite dall'accumulo di rifiuti appunto dall'accumulo di queste risorse che non vengono riutilizzate e quindi questa è una delle varianti colore l'altra variante colore che vi mostro adesso è quella invece in grigio melangiato con suola e fettuccia giallo fluo e arrivo al punto e ve lo mostro in anteprima avremo a partire da gennaio la versione in S3 fatta con questi colori un po' più scuri quindi che si prestano meglio a quei settori un po' più esuranti dove magari c'è una maggiore presenza di sporco che è molto più leggera molto più strutturata e soprattutto molto più riciclata avrà un maggior numero di componenti certificate GRS Global Recycled Standard che è una delle certificazioni di punta che oggi attestano questo recupero di materiali così importante per dimostrare che non stiamo facendo attività non lo stiamo facendo per visibilità ma davvero vogliamo preservare l'ambiente se davvero vogliamo riprendere quelle materie e dare loro una vita nuova creando prodotti innovativi scusa Marco parlavi di leggerezza prima puoi ripetere esattamente quanto è il peso della scarpa e questa è una di quelle richieste che arriva molto spesso sia dalla forza vendita ma soprattutto dai clienti della necessità di una scarpa leggera certo Filippo considera che per i profani se io ti dessi un peso adesso così su due piedi non riusciresti nemmeno a capirlo ma considera che è una scarpa da lavoro non un paio una scarpa sola a livello di mercato in taglia 42 pesa mediamente quindi non scarpe molto pesanti né un po' più leggere ma mediamente si attesta intorno ai 580 grammi in taglia 42 la Ecofresh arriva a 480 grammi 100 grammi in meno per una scarpa quindi 200 grammi in meno per un paio di scarpe quindi immagina un utilizzatore che mediamente trascorre all'interno di un paio di scarpe da lavoro 10 ore almeno ha la possibilità di indossare una calzatura che pesa 200 grammi in meno e con la versione S3 in arrivo a gennaio che ti ho appena mostrato avremo addirittura ulteriori 30 grammi in meno quindi davvero un prodotto fenomenale da questo punto di vista beh insomma mi sembrano tutte veramente notizie in una panoramica generale molto importanti che conferiscono un valore veramente aggiunto alla scarpa alla calzatura in sé Ecofresh con cui veramente noi stiamo facendo un ottimo lavoro sia sul nostro mercato in generale ma soprattutto in termini di concept mi piace un sacco vedere alla tua sinistra i piedini della bimba del bimbo che poggiano sulle scarpe lavoro del papà un messaggio anche di speranza di futuro che comunque possiamo dare noi già facendo quello che è un cambiamento importante con questa tipologia di messaggio intanto ti ringrazio per tutte le informazioni una cosa importantissima invece dobbiamo dirla perché oggi stiamo facendo un live streaming tra virgolette formativo e informativo per darvi più nozioni possibili perché voi possiate cominciare a conoscere questo prodotto sappiate che però questa volta abbiamo deciso di fare un passo oltre e durante il nostro live shopping del 27 di novembre il Black Friday Modif diciamo che abbiamo trovato il modo di fare una connessione tra quello che oggi quello che vediamo come informazione con quello che faremo il 27 di novembre quindi abbiamo deciso di farvi una domanda a cui poi risponderete il 27 di novembre chi sarà stato attento chi avrà modo di ritrovare la registrazione in Facebook o comunque chi ha assistito al live streaming potrà rispondere a questa domanda solo ed esclusivamente durante il live shopping e avrà accesso a uno sconto del 20% sulla calzatura attenzione bene la domanda è che differenza c'è tra una calzatura S1P e una calzatura S3 per chi è addetto ai lavori Marco lo sa è una domanda abbastanza comune e in realtà ha una risposta abbastanza semplice non per tutti quindi invitiamo tutti quelli che sono interessati a rispondere a questa domanda il 27 di novembre durante il live shopping e solo in quell'occasione Sara che è sempre in regia in questo momento vi invierà un codice sconto perché voi possiate acquistare la Ecofresh al 20% soltanto durante il Black Friday secondo me Marco questa è una domanda a cui però in realtà qualcuno può già rispondere o sbaglio vero? Assolutamente sì se hanno seguito la nostra ultima diretta sicuramente hanno ben in mente di che cosa si tratta lo spediamo abbastanza bene dai non è così difficile basta un piccolo sforzo avranno modo di poter rispondere anche loro Sara dalla regia ci sono domande? sì è arrivata una domanda ossia dove vengono prodotte queste scarpe però bene vi riveliamo dove vengono prodotte queste scarpe però facciamo una piccola premessa abbiamo utilizzato come dicevo inizialmente tutta una serie di materiali riciclati quindi abbiamo deciso di provocare meno impatto all'ambiente però questo non sarebbe stato coerente se queste calzature le avessimo poi prodotte magari dall'altra parte del mondo quindi produrle magari nel famoso Fariste quindi in Asia e poi metterle a bordo di un transatlantico che deve navigare per più di 9000 chilometri e arrivare fin qui navigando per mesi noi non abbiamo fatto questo la Ecofresh viene fatta proprio qui in Italia guardate sul battistrada quando la acquisterete c'è scritto un bel made in Italy la facciamo qui a poche ore da noi ci vado personalmente a controllare le produzioni l'ho messa a punto qui a poche ore da casa ed è veramente un prodotto ecosostenibile sì ma al 100% perché combiniamo non soltanto questo tipo di materiali ma anche le produzioni vengono fatte se posso permettermi anche se non è esattamente così a chilometro zero altre domande sì è arrivata un'altra domanda come potete garantire la stabilità della suola bene allora la stabilità di questa suola sicuramente è una domanda interessante perché è una suola che ha un profilo piuttosto basso che per ridurre il peso abbiamo fatto uso non ha solamente un profilo basso quindi ci si aspetta che non sia abbastanza stabile che quindi procuri magari delle storte su pavimentazioni regolari invece no la Ecofresh alloggia al suo interno quello che comunemente nel mondo della calzatura si chiama cambrione ovvero una stabilizzatore che permette alla Ecofresh di flettersi nella maniera corretta come vedete ai due terzi della calzatura cioè la calzatura non si flette qui a metà caso nel quale sarebbe diventata davvero scompa come scappa quindi diffidate da quei prodotti che si flettono esattamente a metà si flette ai due terzi ma non si torce questo cambrione questo componente che tra l'altro anche lui è in buona parte costruito con materiali da recupero permette appunto la flessione ma non la torsione perciò non abbiate paura anche su pavimentazioni regolari Ecofresh non vi non vi procurerà alcun tipo di problema e non vi causerà infortuni siete assolutamente stabili su qualsiasi tipo di pavimentazione o quasi ok Sara se non ci sono altre domande possiamo no per ora no non ci sono altre domande eventualmente comunque la chat è aperta e noi risponderemo comunque nelle prossime ore nei prossimi giorni ad eventuali domande il mio rinnovo è quello appunto di risentirci durante il live shopping del 27 novembre quindi invito tutti faremo veramente un balzo per quanto riguarda tutto ciò che è la presentazione in più ci saranno delle grandissime promozioni per tutti i nostri clienti e per tutti coloro che vorranno accedere a una serie di prodotti dedicati proprio per quella per quella giornata come usualmente si fa durante qualsiasi Black Friday però vi ricordo la domanda che vi darà accesso a uno sconto particolare al 20% sull'EcoFresh che è che differenza c'è tra una S1P calzatura S1P e S3 da lavoro lato nostro penso di aver penso che abbiamo spiegato tutto quindi ringrazio Marco per la solita disponibilità e per la solita precisione con cui spiega le calzature antinfortunistiche la tua competenza è sicuramente un valore aggiunto assolutamente ringrazio Sara dalla regia e ringrazio soprattutto il Vintage anni 80 che ci ha permesso di fare questa diretta fantastica qualcuno mi ha già scritto che sembra di essere tornati ai tempi di mai dire gol ringrazio chi mi ha detto perché effettivamente è un grandissimo complimento rimando comunque a tutto quello che è eventualmente per le informazioni a rivedere anche quello che è stata la spiegazione di oggi durante il live streaming grazie a tutti vi saluto buona serata ciao 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 ciao